domenica 5 con barbara d'urzo stanno parlando dell'isola dei famosi di quello che è successo con eva anger francesco il cognome un muo ricordo l'ex di sicilia sicilia andiamo a vedere che è successo e che cosa ha fatto vedere barbara d'urzo poi ritorneremo solo sul fatto che ci siamo parlati pochissime volte la anger durante la diretta resta di stucco poi la delusione lascia spazio alla rabbia che cresce di giorno in giorno ha detto una bugia se quella ancora molto l'ho fatta st'ha merettato no adesso comincio a capire perché cecili abbia scelto un altro fino a ieri quando come un fulmine a cesereno la anger accusa monte di aver fumato marihuana durante il reality i pochi minuti i social si intasano i giornali ribattono la notizia a fine puntata però eva a fare conti con il pubblico sovrano il naufrago che deve lasciare l'isola è eva eliminata con il 77 per cento di voti per lei l'isola finisce qui ma forse la diatriba con francesco nuova e solo all'inizio a termine del servizio breve che ha fatto barbara d'urso abbiamo sentito che ha detto ne parleremo in tribunale come andrà a finire un grande ciao un bacio a tutti da dato su dato ciao 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 Grazie a tutti